Benvenuti dal Casino Perla di Nova Gorizza, oggi dei due di questo settimo evento delle Isob Season 2016-2017. Dei 260 player che hanno preso parte ai dei 1, 134 i player rimasti e per la prima volta in stagione a comandare tutti una quota rosa, Alice Sicconi. Alice si presenta a questo dei due con 419.600, subito seguita a ruota da Ivano Tellini con 368.400 chips, ma ora saliamo in poche room per il programma della giornata. Alle 5 avremo il 6 Max con 30.000 chips di partenza a livelli da 25 minuti, mentre alle 21 il Super Knockout 8 Max con 20.000 chips di partenza a livelli da 20 minuti. Ci vediamo più tardi per l'intervista all'uomo Volla e al Cip Leader di fine giornata. Grazie a tutti per l'intervista all'uomo Volla e al Cip Leader di fine giornata.